Ciao a tutti, nel video di oggi, Leo fa assaggiare un po' della sua briocha a mamma chiara mentre fa una passeggiata con lei e con papà. Poi papà Fedez ci mostra il colore degli occhi della piccola Vittoria. Vi lascio al video, buona visione. Capitan Marvel, amore, sei troppo un pro. Qui io vedo un bellissimo occhio azzurro, vero amore? E anche tu non hai preso gli occhi color cacca dal papà, possiamo dirlo definitivamente. Bravo amore. Non è un vero weekend, oh come sbrillucci, chi amore. E' una madonna. Volevo solo dire che non è un vero weekend se non c'è il ciambellone. Il ciambellone è sempre con noi, vero patatona? Amore mio. Anche quando faccio compagnia alla mamma che ha latta, che ha il suo ciambellone ovviamente, io sto qui a farle compagnia con il mio ciambellone. Perché sì, ho un mio ciambellone. Perché sì, ho un mio ciambellone. Perché sì, ho un mio ciambellone. appena arrivato a casa e guardate ho fatto tada che bellezza grazie mille raga devo sistemare il tappeto tutti belli però ragazzi questo qua cioè ma quanto è bello l'aureola col disco d'oro grazie alle ortolani perché ha fatto un lavoro incredibile qui wow 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.